benvenuti a questo nuovo appuntamento che ha per tema il cocktail monkey gland nella copertina che state osservando alla sinistra c'è una caricatura di un personaggio con una scimmia tra le braccia e si tratta del dottor boronoff nella immagine a destra il cocktail con uno sfondo che è rappresentato dalla copertina di un testo dal cretino al genio l'autore di questo testo è sergei boronoff sergei boronoff è stato uno scienziato di origine ebrea e russa che poi si è trasferito nel nell'europa soprattutto a parigi e poi si è trasferito come trasferito negli ultimi anni della sua vita a imperia questo personaggio questo eclettico scienziato sarà poi ricordato per i famosi esperimenti infatti il nome monkey gland ha a che fare con questi esperimenti tra l'altro al dottor boronoff è anche dedicato un filetto quindi sia l'enogastronomia la cuscina sia il mondo del bar gli ha dedicato gli ha dedicato qualcosa la ricetta attuale del cocktail è la seguente è formata in ugual misura con 45 ml di gin e 45 ml di succo d'arancia e poi ci sono altri due ingredienti cucchiaio di essenzio un cucchiaio di granatina tutto shakerato e filtrato nella coppetta il nostro cocktail apparve nella prima codificazione ufficiale nel 1961 ma era già presente in altri ricentari vintage e appare con questa ricetta in quinti però come potete notare sia la granatina sia l'assenza sono presenti sotto forme di bocce poi dal 1961 fino al 2011 questo cocktail non sarà più presente nella codifica ufficiale IVA nel 2011 comparirà comunque con una ricetta diversa da quella che conosciamo noi oggi predominanza del gin due cl di succo d'arancia e sempre due gocce di essenzio e due gocce di granatina il tutto il tratto una coppetta cocktail dopo averlo shakerato e il nome di questo cocktail allora monkey gland essenzialmente significa testicoli di scimmia dove in realtà più che testicoli si riferisce alle gonadi cioè alle ghiandole endocrine che sono presenti nei testicoli maschili perché ovviamente le ghiandole endocrine femminili sono le ovaie dottor voronoff faceva il seguente esperimento ricordiamo che siamo in un periodo storico dove era non dico normale ma era facile sperimentare sugli esseri umani ovviamente su quelli che si rendevano disponibili allora in sintesi lui cosa faceva lui trapiantava le ghiandole endocrine quindi le gonadi dalle scimmie a degli uomini anziani per vedere l'effetto di ringiovanimento e qualche cosa accadeva tutti alla ricerca in particolare anche vorono a fare la ricerca dell'eterna giovinezza in questo modo lui sfruttava gli ormoni e le ghiandole per ringiovanire il corpo questa cosa gli diede tanta visibilità e poi poi andremo a vedere meglio questa cosa delle ghiandole endocrine anche perché vi ricordo questo tipo di lezione che viene svolta nelle quarte nelle quinte degli alberghieri dove sono presenti anche elementi multidisciplinari ma ci ritorneremo sul gin giusto due parole gin è un distillato di cereali che viene aromatizzato con vari ingredienti tra cui il classico gin deve profumare di bacche di ginevro anche se oggi tutti i gin di nuova generazione possono avere anche altri profumi perché vengono utilizzate diverse botanità quindi tutto dipende dal distillatore il gin è il distillato base di questo cocktail dopo il gin abbiamo il succo d'arancia che deve essere fresco e poi altri due ingredienti l'assenzio che qua viene usato un cucchiaio e poi la mela grana o lo sciroppo di granatina anche se ci sono pochi ormai sciroppo in giro che effettivamente vengono preparati con il melograno meglio con i semi del melograno tra l'altro è un frutto autunnale bellissimo e anche questo a che fare come simbolo insieme all'assenzio a che fare come simbolo con l'immortalità ma su questo non ci addentreremo questi sono soltanto i quattro ingredienti che compongono questo drink ma torniamo al signor Voronoff o meglio al dottor Voronoff anche questa è un'altra caricatura dell'epoca risale al 1908 quando in questo congresso appunto lui diede notizia di questi suoi esperimenti che faceva sugli esseri umani consenzienti perché ovviamente poi nel momento in cui si sparse la voce che lui riusciva a ringiovanire il corpo molti si prestarono a questo esperimento quindi facendosi trapiantare di fatto le gonadi di uno scimpanzé giovane e nel loro corpo vecchio però ricordiamo anche un'altra cosa si potrebbe fare un'altra comparazione è come mettere un motore una macchina nuova in una macchina vecchia sì il motore sarà sempre nuovo eccetera ma tutto il resto in ogni caso ne gioverà soltanto in parte il dottor Voronoff come vi dicevo si trasferì alla fine in Italia dove acquistò questo chateau questa villa gigantesca lo chateau Grimaldi che si trova in provincia di Imperia e qui condusse i suoi esperimenti e trascorse trascorse l'ultima parte della sua vita questa è una foto storica del novecento oggi la villa sembra che non sia più in vendita ma sia acquisita comunque intanto lui qui proseguì la sua sperimentazione sulle ghiandole endocrine c'è tanto da dire ma sostanzialmente sono quelle che producono ormoni e li fanno girare nel corpo sono tutte importanti soprattutto sono importanti quelle legate alla parte alta l'ipofisi l'ipotalamo l'epifisi qui non è elencato ma c'è ama anche la tiroide e le paratiroidi il timo che si trova posizionato vicino al cuore e poi ci sono quelle diciamo dette anche di costruzione e di procreazione legate legate soprattutto alla vita e sul renali che sono importantissimi soprattutto anche per chi fa sport mosadrenalina pancreas e infine le ghiandole endocrine più basse le gonadi per quanto riguarda gli uomini sono quelli nei testicoli mentre invece per le donne sono le ovaie e queste sono le ghiando endocrine sulle quali che erano oggetto dell'esperimento del dottor Voronov ma non solo di lui ad esempio un altro personaggio molto importante dell'epoca è Nicola Pende Nicola Pende può essere considerato il padre dello studio che hanno le endocrine in Italia lui fu autore di diversi testi tra cui questo bonifica umana si trova tra i collezionisti o comunque in mercati in librerie antiquarie non è stato più ristampato ma ce ne sono diversi Nicola Pende tuttavia firmò il manifesto per la razza e fu finita la seconda guerra mondiale fu comunque un pochino estromesso ma poi recuperò i suoi studi e gli riviedero la cattedra e fatto male fatto bene questo non lo sapremo anche perché all'epoca era così se volevi non firmare il manifesto della razza ecco ti estromettevano da tutta e da tutto il mondo accademico però ricordiamo anche che ci sono stati degli studiosi coraggiosi che hanno preferito non firmare il manifesto della razza per poi andarsene altrove il caso più eclatante in altri paesi è stato quello di Einstein ma torniamo a noi ci sono stati diversi studi su questa su questa branca della biologia infatti Roberto Volterdi autore di questo testo biologia dell'impossibile ha ha riportato diversi esempi tra cui anche esempi tra virgolette fantastici fantastici e ma torniamo al nostro Voronoff insiste con la sperimentazione riceve una pubblicità enorme dai primi risultati positivi comincia a scrivere diversi testi questo è un altro suo testo si chiama vivere infatti notate nel sottotitolo per ripristinare l'energia vitale e prolungare la vita e oltre a questo appunto un suo libro il suo libro più famoso sarà quello che abbiamo citato prima abbiamo messo in copertina ossia dal cretino al genio arriviamo agli anni 80 negli anni 80 ora parleremo un pochino di cinema compare sui grandi schermi a un film puttioso curioso questa è una scena tratta da questo film il posto è la colonia varese che si trova oggi praticamente sono dei ruderi e si trovano a milano marittima nella colonia varese qui hanno ambientato questo film zeder zeder è un film di pupavati un film horror che parla della possibilità ovviamente ora siamo nel campo del cinema quindi è fiction e finzione comunque siamo in un campo dove era possibile secondo gli autori questo film seppellire delle persone per riportarle in vita dipendeva da questo tipo di terreno ripeto è un film fantastico c'è una scena che è stata quella utilizzata per fare pubblicità al film dove si vede questo essere umano questo personaggio che lo stesso che vedete nel manifesto che si risveglia e viene visto dall'attore attraverso degli schermi il terreno k veniva chiamato così ma nel campo il campo della cinematografia ha molto e soprattutto della letteratura ha molto indugiato su questi esperimenti basta ricordare il più celebre di tutti che frank stein ma diversi film horror si basano su questa diciamo su questo schema questo andiamo un pochino più avanti vediamo se c'è questa famosa scena eccola qua dove lui la può osservare l'attore protagonista la può osservare attraverso questi schermi che appunto replicano fanno vedere in diretta i risultati di questo esperimento il morto riprende vita da notare i colori blu blu notte blu blu non è il buio della notte il buio pesto dove non si vede più nulla ma è un blu piuttosto nico tra l'altro questo film c'è da dire anche un'altra cosa questo film uscì praticamente più o meno in contemporanea con un testo uno dei romanzi più famosi di steven king cimitero vivente cimitero vivente il nome che hanno dato al film in italia ma in realtà cimitero degli animali per se metere questo questo romanzo è uno dei più famosi steven king anche se lui era già noto negli anni ottanta nei primi anni ottanta steven king era già famoso anche grazie a shining da cui è stato tratto il famoso film di cui romanzo è stato tratto il film di kubrick pezze metali è un cimitero costruito sul cimitero dove non si poteva accedere era un posto sacro degli indiani dove però qualsiasi cosa ovviamente parliamo di animali veniva seppellito ritornava in vita è uno dei film più disturbanti ovviamente sto parlando del libro ma anche il film è uno dei film disturbanti disturbanti è un termine che nella cinematografia si riferisce a quei film che ti lasciano in quel senso di recutezza qualcosa un sapore amaro che resta a lungo il termine disturbante venne coniato negli anni settanta con il film non aprite quella porta dicevo che la cosa curiosa che questo romanzo di steven king viene pubblicato più o meno contemporaneamente al film zeder quindi compare il film zeder ma intanto c'è anche questo testo di steven king e lì insomma è come se per una strana coincidenza si ritrovano insomma c'è questo questa coincidenza che fa sì che un soggetto unico cioè un posto un terreno che fa riportare in vita le persone si trova sia sotto forma di romanzo horror sia sotto forma di film ma abbiamo chiuso questa piccola parentesi in realtà dal punto di vista didattico il monkey gland ovviamente ci ha fatto parlare un po del cocktail non abbiamo approfondito il gin il succo d'arancia c'è poco da approfondire però il succo d'arancia è fondamentale sia per la preparazione cocktail analcolici ma soprattutto perché contiene anche vitamine purché sia consumato subito però a parte questo abbiamo collegato diversi punti italiano storia arte territorio perché anche qui possiamo legare dei prodotti al territorio nella foto che vi ho fatto vedere c'era il prebu gin che è un prebu gin tipico ligure ma ce ne sono tanti altri ovviamente abbiamo parlato di bar di geografia turistica dei marchi di qualità quindi anche legandoci sempre al fatto che il prebu gin il suo marchio il suo la sua etichetta è legata alla liguria ma i marchi di qualità si intendono anche i prodotti i prodotti che hanno un determinato marchio come dop igp e così via però nel mondo del mondo degli alcolici non sono tanti i prodotti che sono protetti dal marchio ad esempio la grappa se il nome grappa lo puoi usare in per questo distillato di minacce che si trova in tutta italia però ad esempio anche la francia produce la grappa si chiama in altro modo ma comunque distillato di minacce e così via e quindi abbiamo toccato un pochino anche altri temi che possono essere interessanti o meno ma non è importante è importante che ci siamo fatti una chiacchierata vi ricordo anche che questi spunti multidisciplinari si trovano in questo testo che si chiama benvenuti in sala bar è un testo un testo della heli plan io sono l'autore ma in questo libro troverete dicevo diversi anche esempi tra cui anche spezzoni di film commentati oppure anche collegamenti con l'arte benissimo vi auguro un buon proseguimento arrivederci alla prossima quando parleremo del cocktail sidecar